Disastro a Hollywood. What just happened? The Night Of? Cos'è successo quella notte? Steven Zalian? No. Sceneggiatore di The Irishman, regista di The Night Of? No. Disastro a Hollywood. È domenica. Una domenica uggiosa, una domenica plumbia. No, sto qui nell'abitacolo di questo appunto. No, non ho i soldi per la BMW. A differenza delle spie di Roni, di John Frankenheimer, sceneggiato da David Mamet. Non ho i soldi per la Mercedes. È iniziata la Formula 1. Come va la Ferrari? Bene? Ma Pacino di Sento Feumann, secondo voi? Davvero guidò la Ferrari, essendo cieco? Ok. Disastro a Hollywood, di Barry Levinson, regista di primi Oscar per Rayman. Sceneggiatore, fra l'altro, di Pacino e Giustizia per Tutti. Allora, Disastro a Hollywood, di Barry Levinson. Dopo Sleepers, Sesso e Potere, Wild Dog. Sceneggiato da David Mamet, no? De Niro e Barry Levinson tornano a lavorare assieme. Il produttore è Art Linson. Infatti, What Just Happened, senza punto interrogativo, è tratto dall'omonima sua novella col punto interrogativo. What Just Happened. Storia mare dal fronte di Hollywood. Sceneggiata dallo stesso Levinson. In questa novella, Levinson raccontò, diciamo, la sua cronistoria, per lo meno cinque anni, in cui si rivela e si susseguirono varie vicende, avventure, anzi disavventure, vicissitudini personali e professionali. Un arco di tempo, un lasso piuttosto breve, cinque anni, in cui Art Linson, ci racconta quel che gli successe, secondo la sua fantasia un po' caustica, graffiante, cinica, sferzante, questi cinque anni rutilanti e rocamboleschi, avventurosi nel loro essere tragicomici, che vanno dall'Urlo dell'Odio, film di Lee Tamaori, che doveva essere inizialmente interpretato proprio da Robert De Niro, una parte poi da Anthony Hopkins, e l'Urlo dell'Odio a Il Colpo, The Ice. Allora vi racconto questo, Robert De Niro doveva inizialmente interpretare questo film, diretto e scritto proprio da David Mamet, sono amici, e la parte poi andò a Gene Hackman, De Niro invece preferì interpretare un film piuttosto simile, che è The Score, di Frank Oz. Allora, torniamo a Disastro Hollywood, sceneggiato dallo stesso Linson, che adatta, adattò la sua novella, in qualche maniera reinventando, perché la storia non è la stessa. Si seguono due settimane lavorative e professionali della vita di Ben Robert De Niro, alle prese col montaggio finale di un film che alla proiezione stampa andò malissimo, firstly, interpretato niente poco meno che da Sean Penn, nella parte di se stesso. e insomma deve gestire anche il rapporto con la sua ex moglie, interpretata da Robbie Wright Penn, ex moglie di Sean Penn, infatti questo film viene accreditato ancora come Robbie Wright Penn, adesso è tornata nuovamente Robbie Wright e basta, come in Forrest Gump, e lui è ancora innamorato di lei, ma lei ha chiesto la pratica di divorzio e qui passa qualcuno che deve, al solito, rovinare la registrazione e poi ci si mette di mezzo Bruce Willis, che era stato scritturato per un film prodotto, che sarebbe stato, insomma doveva essere prodotto anzi da Ben, che gli chiese di ingrassare e di farsi crescere una barba, un barbone da talebano e poi invece gli farà altre richieste, abbiamo anche John Turturro, ritorniamo a The Night Of, The Night Of doveva essere interpretato da Robert De Niro, ma poi la parte andò a John Turturro, vedete come tutto si intreccia, l'intreccio è piuttosto semplice, quello di What Just Happened, di Dastra Hollywood, sebbene a mo' di matriosche a matriosche spuntino microstorie che, diciamo, riempiono la storia stessa e la rendono più corposa. Film un po' irrisolto, arrivato fuori tempo massimo, perché noi ormai usufruiamo dei Blu-ray, dei DVD, quindi conosciamo tutti i backstage che ci vengono raccontati proprio dagli stessi registri e produttori, arrivato fuori tempo massimo non soltanto per questo, anche perché nei primi anni 90 uscì un film decisamente superiore di Robert Altman, i protagonisti. Comunque, un film assolutamente interessante. Robert De Niro e Barry Levinson torneranno a lavorare assieme per il TV Movie della HBO, Wizard of Lies, biopic su quel mostro di Bernie Madoff, e David Mehmet, Art Linsson, De Niro, The Untouchables. De Niro e Art Linsson, il cui film migliore, diciamo, di questo sodalizio artistico produttore-attore, sarà probabilmente sempre It, la sfida di Michael Mann. Meno efficace voglia di ricominciare, This Boy's Life, con il genitivo sassone, This Boy's Life, la vita di questo ragazzo, Leonardo DiCaprio, film di Michael Catton-Jaws, con cui Robert De Niro tornò a lavorare per City by the Sea colpevole d'omicidio, sceneggiato però da Ken Hickson, David Mehmet, Ronin, sceneggiatura, dicevo, di Art Linsson, di questo disastro a Hollywood, sarebbe stato meglio se Art Linsson si fosse affidato a David Mehmet, perché le battute a volte non funzionano in questo film, a volte gira a vuoto, la storia non intriga, non appassiona mai del tutto, sebbene Robert De Niro in sordina, interpretazione piuttosto moderata, una delle sue migliori di quegli anni, quel periodo uscì anche con il tanto bistrattato, aspramente criticato, Right to Skill, sfida senza regole, con Al Pacino, It la sfida, padrino parte secolo, adesso avremo The Irishman, diretto da Martin Scorsese, e Disastro Hollywood, un film interessante, spero che presto verrà pubblicata la mia recensione su Daruma View Cinema, Art Linsson, anche lui amico di David Mehmet, produttore di Spartan, film che non ha visto nessuno, come non ha visto quasi nessuno, questo disastro a Hollywood, un film che comunque vi consiglio di vedere, innanzitutto per il grande cast, Robert De Niro, Sean Penn nella parte di se stesso, Bruce Willis nella parte di se stesso, Catherine Keener, Michael Winkert, il cattivone del Corvo, il cugino sfigato dello sceriffo di Nottingham, Alain Rickman, e torniamo a Bruce Willis, trappola di cristallo, Stanley Tucci, Robin Wright, John Turtù, John Turtù l'avevo già citato, e poi chi c'è ancora? Beh, c'è anche Kristen Stewart, sì, in un piccolo ruolo, nella parte della figlia di Robert De Niro, prima di Twilight, prima dei film di Woody Allen, prima di diventare la gran figa che oggi, qui è carina, ma è ancora giovanina, ragazzina, Robert De Niro, Joker, The Irishman, Art Linsson, un grandissimo produttore, non tutti i suoi film sono stati successi, di successi, una carriera altalenante, perché in Italia continua a non uscire questo film sul Joker? No, su uno stand-up comedian intitolato The Comedian, ma cos'è? Re per una notte di King of Comedy? No, The Comedian, la storia di Jackie Burke, Robert De Niro, diretto da Taylor Hickford, regista dell'ultima eclissi, l'avvocato del diavolo con Al Pacino, e soprattutto di ufficiale e gentiluomo, io sono un gentiluomo, non lo so, pomeriggio opaco, questa è una maglietta grigio-blu, abbottonata, fino al collo, perché fa veramente freddo, qui a Bologna, voi avete freddo, avete caldo, cosa state facendo questa domenica pomeriggio? State scopando, state guardando le partite di calcio, giochi di palle, giochi balistici, disastro a Hollywood, film sottovalutato, presoché misconosciuto, guardato da pochissimi, ma non è così male, anche Metacritic non gli assegna un voto disdicevole, un film comunque da vedere, se siete affissionato di Robert De Niro, se volete conoscere comunque la carriera di un regista non eccezionale, ma comunque un autore, a suo modo, che è Barry Levinson, e basta, adesso passa uno che mi ha guardato male, andiamo al festival, alla festa del cinema di Roma, a vedere The Irishman, io ci andrò, io ci andrò, buon pomeriggio a tutti, buona vita a tutti, buon Joker, e poi leggerete, spero, la mia recensione più esaustiva, completa, e integrale, su Da Roma View Cinema.